Il Ministero dello Sport ha pubblicato pochi giorni fa la gradattoria relativa al bando sport e periferie. Per i comuni sardi arriva una cifra consistente. Oltre 10 milioni arriveranno in Sardegna distribuiti tra vari comuni sardi che hanno presentato delle peggiori attualità che sono state ammesse e finanziate, verranno finanziate dal Ministero dello Sport. Tra i comuni finanziati, ad esempio, il comune di Iglesias, 699 mila euro, 710 per Iglesias. Il comune di Monserrato, 700 mila euro per il comune di Monserrato. Il comune di Oristano, capoluogo di provincia di Oristano, 700 mila euro anche per lui. I nostri vicini del comune di Itri, 690 mila euro, arrivano per il comune guidato da Antonio Sauti. Purtroppo, ancora una volta, invece, Alghero non viene finanziato. Il progetto di Alghero non risulta tra quelli finanziati, in quanto recupera un punteggio troppo esiguo che lo vede in fondo alla graduatoria e quindi tra quelli che non raggiungono un punteggio per essere finanziati. Ennesimo disastro, esemismo pasticcio della giunta centrodestra che governa Alghero, guidata dal sindaco Conoci. Dopo i bandi buccati nella scuola o nella non partecipazione al bando per il città cattivo UNESCO, questa volta non riusciamo, partecipiamo per fortuna, ma non riusciamo a classificarci in posizione utile. Il comune di Alghero aveva presentato un progetto per il campo sportivo del Carmine per 700 mila euro e purtroppo tutta questa speranza di poter realizzare, di poter riqualificare quel quartiere va in fumo. E guardate, non è che sono stati finanziati pochi comuni, ma sono stati finanziati tanti. Vi faccio degli esempi incredibili. Il comune di Bonarcado, mi perdoneranno, 687.466 euro per un paese famoso, più che altro per la saga della Ciliegia, 1.500 anime. Il comune di Nurri, 665 mila euro, piccolo comune di 2.000 abitanti del Sarcidano. O il comune di Guasila, invece, della zona Tregenta, anche qui poco più di 2.000 abitanti, 2.500, 395 mila euro per Guasila. Ma addirittura il comune di Borutta, del Melogu, parliamo di un paese che stando a Wikipedia, ha 264 abitanti e arrivano 395 mila euro di finanziamento. Noi, purtroppo, ancora una volta, per l'incapacità di progettare, di programmare, di andare a prendere risorse da dove ci sono, perdiamo un'occasione. È l'ennesimo disastro di una giunta e di un'amministrazione che purtroppo sta piano piano portando questa città alla deriva. Alla deriva, qua viene facile fare un parallelo tra quello che sta succedendo in Alghero e quello che, tristemente ricordiamo, è successo anni fa. Cioè, la sensazione che siamo davanti a un naufragio, ormai per questo comune, quello che fu il naufragio della Concordia, tristemente famoso, associato al nome del comandante Schettino. Purtroppo non vorremmo, quando mai, anche la situazione della città di Alghero vivesse una situazione di naufragio e di deriva associata al nome del sindaco Conoci, come purtroppo oramai sembra ineruttabile.